Se ne occuperà Adenauer, è lui che comanda. C'è un assassino in libertà, un membro dell'SS. Dimenticheremo presto il più grande crimine contro l'umanità. Di cosa sta parlando? Che un procuratore tedesco non sappia cos'è successo ad Auschwitz è vergognoso. Abbiamo un crimine reale, delle vittime concrete. Dieci milioni di nazisti e quegli idioti hanno notato ogni cosa. Procuratore generale Bauer, questo è l'elenco ufficiale degli aiutanti di campo ad Auschwitz. Questa è una prova, giusto? Voglio sapere che cosa è successo lì. Si rende conto di cosa sta facendo? Vuole che ogni ragazzo di questo paese si chieda se suo padre è un assassino? Voglio mettere fine a queste bugie e a questo silenzio. Abbiamo ragione di credere che nel Lager siano stati commessi dei crimini. Ne hanno uccisi centinaia di migliaia. Mengele a Buenos Aires, ecco il mandato di cattura. In Sud America? Ma è così lontano. I tedeschi dovrebbero vedere quali crimini sono stati commessi da persone perfettamente normali. Sei diventato insopportabile, tu vedi soltanto il male, nient'altro! Dovrebbero gassare anche te. Dite finalmente la verità.